buongiorno allora intanto una notizia che arriva dalla continassa vlaovic si è andato parzialmente con il gruppo e da domani si allenerà totalmente con il gruppo quindi si sta avviando verso il recupero per la partita di sabato contro il verona partita inutile dirlo molto attesa per la verifica conferma o smentita ovviamente di tutto quanto si è sentito ieri di quanto si è legto oggi si è commentato quest'oggi non solo sui giornali non sono delle visioni ma anche su canali di persone che fanno come primo mestiere quello che per me è un secondo mestiere in questo momento in questo momento visto che faccio ancora a tempo pieno il giornalista e commenti praticamente condotti all'unisono e sui quali mi trovo d'accordo mi trovo d'accordo anche con persone con le quali ci sono stati contrasti con le quali magari ci saranno ancora contrasti eccetera perché giustamente anch'io degli occhi per per vedere e nel momento in cui si chiedeva alla juve una ripresa della propria attività dopo la sconfitta di san siro lasciamo stare il punto con l'empoli che è figlio di quello che è successo dopo 18 minuti ma specialmente dopo la sconfitta di san siro ossia una juve che tornasse a vincere una partita senza diciamo soffrire più di tanto eccetera come aveva fatto negli ultimi tempi ecco non si è visto non solo non si è visto ma addirittura l'ha persa quello che trovo in questo momento totalmente fuori luogo è quello di chiedere l'esodero di Allegri perché non si può chiedere né del resto ottenere l'esodero di un allenatore che secondo in classifica ancora è secondo in classifica che certo ha messo molto diciamo così in crisi questa posizione ma che può comunque nuovamente consolidarla quindi mancano 14 giornate quindi i discorsi su conferme esoneri interruzioni di rapporto quant'altro vanno fatti alla fine della stagione ieri le parole di giuntoli sul suo l'intenzione della juve di proseguire con massimiliano allegri fanno parte di quel filone che vi ho sempre spiegato ed è relativo al fatto di voler capire immediatamente quali sono le intenzioni di massimiliano allegri la società si schiera da una parte anche per strategia ve l'ho già spiegato diverse volte ma ve lo rispiego è un allenatore che va in scadenza l'anno prossimo e quindi la società ha fretta di sapere se nelle intenzioni di allenatore ci sono anche quelle di proseguire questo rapporto altrimenti viene sostituito non si presenterà la juve al prossimo al campionato con una torre in scadenza mi do tre possibilità su cento voglio allargami cinque possibilità su cento che questo succeda ok quindi le parole di giuntoli sono relative a questo allegri facci sapere cosa vuoi fare e ti metto di fronte alla gente dicendo te le pubblicamente perché sicuramente queste cose la società gli le dice anche in privato e allegri si prende tempo ho un anno di contratto probabilmente vuol capire che squadra verrà allestita l'anno prossimo probabilmente sta valutando offerte che gli sono arrivate non lo sappiamo ma questo è il senso detto questo chiedere che adesso venga esonerato anche perché per darla a chi la juve in questo momento a montero perché leggo anche di montero allenatore della primavera siamo completamente fuori da ogni logica fuori da ogni logica perché ha giocato alessandro e non rugani ve lo dico perché rugani ha qualche problemino in questo momento non c'entra niente quanto io ho paventato ossia l'intervista famosa del post coppa italia no no perché mi sono informato rugani ha un problemino dei fastidi ok e le parole di allegri su alessandro della vigilia se ne fossero giocatori così è un giocatore unico eccetera 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 servivano molto probabilmente anche per caricare il giocatore che sapeva di giocare anche e soprattutto perché rugani era meglio non rischiarlo per una questione prettamente fisica quindi abbiamo fatto chiarezza anche su questo e qua veniamo al lato della comunicazione di massimino all'iric che ho visto che è stata sviscerata in diversi video eccetera eccetera sono d'accordo sul fatto che un allenatore che dica questa squadra non è pronta per vincere lo scudetto vada a svilire un po no un po tanto l'autostima dei giocatori però attenzione io ricordo che scesni perché è vero che allegri sempre stato coerente nel dire no questa squadra è cioè l'inter è la più forte che poi voglio dire è la realtà dei fatti è non si scopre l'acqua calda cioè si scopre l'acqua calda non è che si inventa qualche cosa però scesni stesso a tempo fa aveva detto non solo noi crediamo nello scudetto ma anche allegri crede nello scudetto qui si era creata una dicotomia una discrepanza di vedute quindi questo mi fa pensare che se allegri pubblicamente diceva una cosa probabilmente all'interno lo scudetto aveva fatto capire di voler provare a vincere questo scudetto di voler puntare a questo scudetto quindi anche qua è un attimo forse da ridimensionare la cosa sono d'accordo su chi ha argomentato per quanto riguarda le sostituzioni di ieri ma l'ho detto subito ieri sostituzioni dettate dalla frenesia per un po restano in campo il diz milic e chiesa poi toglie chiesa poi c'è il cambio di cambiaso con locatelli con nicolussi caviglia le motivazioni che lasciano abbastanza perplessi perché può succedere qualcosa a questo chiedo di saltare l'uomo quell'altro batte le punizioni si sono d'accordo con voi sono ricerca di soluzioni estemporanee e non come dire momenti tattici di un gioco precostituito siamo perfetti ma questo l'ho sempre detto anch'io ragazzi è che la juve è questa che la juve gioca così con allegri ha sempre giocato così poi dopo naturalmente dipende anche dagli interpreti che hai la juve di 5 6 anni fa o meglio della prima gestione alle aveva un determinato tipo di interpreti questa ne ha di diversi ok quindi ripeto io sono perfettamente d'accordo con le critiche del giorno dopo dico solo dico solo che se è vero che questa era stata la richiesta la società allegri dice siamo in linea con le richieste e può anche svelire un po i giocatori di questa cosa qua ok dico che c'è anche una coppa italia da affrontare con una doppia semifinale e una finale eventualmente e eventualmente da giocare quindi quando vedo o sento commenti catastrofici sul fatto che adesso sarà in discussione anche il quarto posto no non sono d'accordo non credo proprio ovvio 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 che se la juve dovesse perdere anche a verona e non fare punti o fare un solo punto con l'infrosione tra due settimane beh i dati di fatto i dati di fatto mi porteranno a concordare con questo visto che si invoca da parti da più parti padre tempo allora padre a tempo si compirà il 25 di maggio o probabilmente anche il 15 la finale di coppa italia o prima ancora il 3 il 24 di aprile ma padre a tempo non si è esaurito ancora ok iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente questa sera